Arrivano questi 16 milioni di euro che ci aspettavamo, il sindaco entro la fine dell'anno sarà chiamato a firmare presso la presidenza del Consiglio dei Ministri questa convenzione, 16 milioni che ovviamente ci porteranno al recupero del vecchio stadio con anche magari la possibilità di realizzare la scuola per completare e per fare questo polo scolastico con la San Giuseppe, l'arretramento della stazione fatto in collaborazione con RFI che vedrà la realizzazione quindi di una piazza di collegamento fra il quartiere stazione e il quartiere Gammarana, l'intervento dell'Ater per la riqualificazione delle case di Via Piave, della Casa Bianca e poi tutti questi interventi ovviamente collegati da piste ciclo penonali. Io ovviamente colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i nostri partner che sono RFI e Ater perché hanno voluto insomma rispondere con noi a questo bando per dare una progettualità importante per la città di Teramo. Quindi un risultato insieme agli altri, insieme a quelli del Feser che proprio in questi giorni insomma stiamo portando anche lì avanti e avremo questi finanziamenti e sono anche lì 4 milioni e 6 da destinare alla città di Teramo, 16 milioni è il bando delle periferie ed è solo una parte insomma dei progetti che stiamo realizzando per cui insomma si fa sentire la presenza di un'amministrazione. Di fondi Feser di cui cifra parliamo? Qua sono 4 milioni e 6 che sono sempre per la riqualificazione funzionale del mercato coperto anche lì realizzazione di piste ciclo pedonali quindi la mobilità sostenibile così come prevede il PORFES e l'acquisto di autobus a bassa emissione, l'utilizzo delle nuove tecnologie quindi anche l'utilizzo per esempio di pensiline intelligenti che vogliono aumentare la mobilità sostenibile ma destinate anche la nuova tecnologie per la cultura. Fondi che se dovesse arrivare il commissario quindi se si dovesse fermare questa amministrazione dimissionando il consiglio fondi rischiamo di perdere? Il rischio c'è ed è proprio per questo che io ritengo che non sia mai la stessa cosa per una città avere un commissariamento o avere un'amministrazione proprio perché le amministrazioni poi partecipano a questi bandi e di qui ce ne saranno ovviamente altri. Noi abbiamo sempre partecipato, cerchiamo appunto di progettare e di portare finanziamenti per la città. Non so se questo potrà accadere con un commissario.